Buonasera a voi che ci seguite per questa serata di trasmissioni del 14 febbraio 2014. Oggi è una serata un po' particolare, siamo in qualche modo orfani del nostro regista Nota Volpicella che non sta bene e quindi speriamo in modo fruttuoso l'autoregia e la regia a a staffetta. Cominciamo come di consueto con questo spazio di riflessione che è la virgola e ci atteggeremo questa sera a grande testata giornalistica per commentare delle notizie importanti, direi di più, quasi con un delirio di onnipotenza che ci renderà vulnerabili a critiche più serie e più importanti di quanto ci sentiamo, di quanto io mi senta. Addirittura mi dedicherò a commentare vicissitudini istituzionali dell'italietta patria del santo protettore degli innamorati che oggi ricorre e ovviamente trattasi dell'avvicennamento al governo e quindi tra Letta e Renzi. una cosa maturata all'interno del partito del PD che è il partito che esprimeva la maggioranza del governo Letta e che di colpo all'interno di un suo organo che è la direzione, peraltro andata in diretta, ha ritenuto necessario appunto questo cambio di timone. Queste riflessioni le ho maturate dopo la lettura dell'articolo di Alessandro Capiccioli sul suo blog Metilparaben, articolo intitolato Mettendo insieme i pezzi, ringrazio per avermelo segnalato, ringrazio Andrea Ridolfi. Come elettore di Renzi alle ultime primarie, pur non essendo iscritto al PD, da Renzi mi aspettavo un iter diverso per arrivare alla conduzione del governo. Ce lo aspettavamo in tanti e forse anche lui aveva previsto un iter diverso. Lui stesso ha detto, io penso avendo presente che un po' tutta l'Italia, l'Italia si aspettava appunto in un modo diverso, un iter un po' più lungo, una legittimazione popolare, delle elezioni, lui stesso ha detto che si stava appunto per assumere una grossa responsabilità in questa direzione di ieri, facendo capire, io almeno ho così interpretato, che l'assunzione di quella responsabilità di andare a capo del governo in quel modo non gli lascerà la possibilità di piani B o B di fuga. In pratica io penso che lui stesso sia consapevole che o riesce a conquistare le prime tappe di un percorso di riforme per questo paese e deve farlo in tempi brevi, oppure per lui non ci sarà pietà. Non ci sarà la tolleranza che gli italiani hanno avuto per decenni di governi e governicchi semibalneari, oggi le vacanze durano, sappiamo benissimo di meno, tra l'altro sono tra le varie eventuali e potremmo definirli invece dei governi che potrebbero essere da weekend lungo. Non ci sarà la tolleranza per gli anni e anni di schermaglie tra le correnti della DC che hanno giocato tra loro a palla con l'Italia. Non ci sarà la tolleranza che gli italiani per decenni hanno avuto per i patti sceglierati tra DC e PC, partitocratici e lottizzanti, tutto ciò fosse palpabile ma anche solo immaginabile. Non ci sarà la tolleranza mostrata per l'eliminazione per via giudiziaria di una generazione di politici e di politica messa ai ferri o investita da pioggi di monete. Non ci sarà la tolleranza mostrata per la gestione patronale e monocratica del potere frammentato in dosi ed elargito in cambio di beni, piaceri e servizi personali. E non ci sarà la pazienza che gli italiani hanno mostrato per le leggi a personam. Non ci sarà la pazienza che gli italiani, eccetto pochi, i soliti, hanno mostrato per l'approvazione di leggi assurde e carcerocentriche, ispirate da principi grossolani, come la legge Fini-Giovanardi, legge che ha comportato la carcerazione di decine di migliaia di persone dopo otto anni di vigenza il cui procedimento di approvazione è stato dichiarato incostituzionale, facendola quindi in qualche modo decadere. Non ci sarà la tolleranza degli italiani per le carceri che torturano e che sono criminogene, per uno Stato che anziché ospitare chi fugge da luoghi del mondo che forse non riusciamo neanche ad immaginare per la drammaticità e la durezza delle condizioni, lo detiene senza che costui abbia o che costoro abbiano commesso dei crimini. Non ci sarà la tolleranza dimostrata per le spese pubbliche sconsiderate, per i finanziamenti poi rimborsi elettorali ai partiti usati per fare altri soldi e non per fare politica, oppure per spese personali. E per esempio, su questo ma è solo un esempio, non ci sarà la tolleranza dimostrata dagli italiani per i tanti referendum vinti dagli italiani dimenticati e poi contraddetti dall'intero corpo politico e quindi dall'ordinamento. No, per Renzi tutta questa pazienza non ci sarà. L'enfant prodige delle grandi speranze, è diventato grande tutto insieme e sa che non potrà fallire. Ed allora, se non potremo evitare che si costruiscano gogne o forche al primo suo inciampo, perlomeno suggerirei di attendere un tempo congruo per poter valutare il suo lavoro, mi sembra anche ragionevole e umano, cercando di non farsi prendere troppo dalle sensazioni di pancia, soprattutto da certa antipatia o da certa ostilità o contrarietà nei confronti di una esposizione mediatica veramente notevole di cui peraltro non so quanto lui sia stato e sia responsabile. Oppure, per esempio, cercando di non farsi prendere dall'antipatia che in generale di solito suscitano gli enfant prodige, quelli che arrivano prima di altri per vie traverse sul templorino, anche perché non è necessariamente detto che poi il tuffo lo facciano male. In Italia abbiamo visto, ascoltato, vissuto e sofferto, le varie modulazioni del grido di dolore dello Stato di diritto, più o meno impotenti, ovviamente non tutti come sempre, ma la maggioranza sì. Dovremmo allarmarci per chi oggi urla al golpe, per chi diventa improvvisamente paladino del parlamentarismo quando fino a qualche mese fa lo considerava un fastidio ingombrante? Oppure per chi invoca l'impeachment 24 ore su 24? No, non è avvenuto, a mio parere, nessun colpo di Stato, siamo in una Repubblica parlamentare ancora. C'è un tempo per la sorpresa, uno per l'attesa e uno per la delusione. Farli coincidere, ritengo, sarebbe sbagliato e con questo invito alla fiducia, ma anche alla ragionevolezza, io concludo queste mie riflessioni in qualche modo con cui vi tedio ogni apertura di trasmissioni il venerdì sera.